mi presento sono luigi dal cuore sarto napolitano di 74 anni tuttora giro il mondo per fare i miei e ho iniziato questo mio lavoro adorato lavoro all'età di 19 anni ho iniziato l'apprendistato volontario e sono andato avanti adesso mi ci ritrovo dopo 54 anni a combattere fare sempre questo bel lavoro il mio stile di giacca è una giacca che fanno un po tutti a napoli non sono il solo a farla però dicono che io il terzo occhio per le proporzioni per la linea per la comodità e mi accontento di questi i clienti sono sono contenti di me e vado sempre avanti finché avrò la forza perché amo il mio lavoro e sono felice di essere qui nella nuova sede in cui mi presento perché faccio sempre nuove esperienze conosco sempre belle persone è un gentleman è una persona che veste in modo elegante ma non appariscente il bello si deve trasmettere non metterlo in mostra per forza la persona elegante sempre discreta giusta pagata mai esagerata